Sì Antonio, partiamo dallo sport questa sera sulla DN Kronos. Wimbledon, Sinner eliminato nei quarti, Medvedev vince in 5 set, l'azzurro sconfitto dal russo. Sull'ANSA l'ONU, che dice l'ospedale pediatrico di Kiev, è stato centrato da un missile russo, un crimine di guerra. Il procuratore generale della città uccisi 559 bambini ucraini dall'inizio della guerra. SCATG24, il summit nato a Washington, Fonti Kiev, adesione ucraina ad alleanza irreversibile. Al summit partecipa anche Zelensky, nella dichiarazione finale sarà messa nero su bianco la scadenza per l'ingresso ucraino tra gli alleati, riferisce un funzionario ucraino a politico. Insieme ai nostri alleati annunceremo nuove misure per rafforzare la difesa aerea ucraina, anticipato invece Biden. E proprio per il presidente USA il summit sarà cruciale in una settimana forse decisiva per il suo destino politico. Il cremino segue con massima attenzione l'evento. TG Coma 24, la cronaca, la coppia nel veicolo, auto nel po', la donna morta sarebbe stata accoltellata. Nello stesso veicolo c'era anche il cadavere dell'uomo. Queste le ultime per questa sera, Antonio, a te.